L'inaugurazione della mostra fotografica Dante Eco Spirito Green, mostra del fotografo Gian Piero Corelli, esposta da sabato a Palazzo Rasponi a Ravenna, fa parte di un più vasto progetto ecoculturale curato a quattro mani da Corelli in collaborazione con Francesco Tassone. All'interno di questa riflessione sulla cultura green italiana si è tenuto venerdì pomeriggio un incontro alla scuola di giurisprudenza in via Oberdan, in cui Don Albino Bizzotto, presidente Beatico Strutturi di Pace, ha affrontato alcuni temi presenti nel Laudato Sile, enciclica di Papa Francesco sulla cura della Casa Comune, mentre il professor Matteo Andrezzoli dell'Università degli Studi di Milano ha parlato di etica ambientale. È stata un'idea che ci è venuta alla collega Curi, al sottoscritto, non appena abbiamo saputo che Corelli faceva questa iniziativa, questa mostra, perché il corso di laurea magistrale che io coordino qui a Ravenna ha tra i suoi argomenti di approfondimento specifici appunto quello dell'ambiente, per cui mi è sembrato interessante anche uscire un po' dai confini del diritto in senso stretto, avere così un'ottica più culturale se vogliamo, entrare in contatto con una realtà importante del territorio e quindi di ospitare la nostra sede, questa sorta di premier che è qualcosa di diverso, qualcosa che ci coinvolge molto sia per quello che facciamo sia per quello che siamo, verrebbe da dire. Oggi lavoriamo per un mondo dove il futuro e la vita hanno la prevalenza o lavoriamo in un mondo dove la vita è per pochi, e pochi privilegiati e la maggioranza deve solo soffrire e aspettare la carità dei privilegiati. Perché il Papa unisce queste due cose? Da una parte la violenza fatta alla terra vista come strumento di sfruttamento, come mezzo per fare i propri interessi e dall'altra parte la gran parte dell'umanità scartata, perché soltanto una piccola parte gode sia della tecnologia, sia del potere, sia delle risorse e dei mezzi. Come ricentrare la cosa? Da questo punto di vista riprendere il rapporto con la terra come soggetto e quindi visto che la terra viene prima ed è prevalente rispetto alla necessità che tutti abbiamo, prima va rispettata la terra, poi interveniamo. Allora la terra non è più il mezzo, la terra è il fine dell'attività umana. Se vogliamo la vita, noi dobbiamo lavorare prima per la terra, poi tutto il resto. Io nello specifico mi occupo di etica ambientale e quindi del modo in cui gli esseri umani si relazionano all'ambiente non umano. Nello specifico credo che un tema di fondamentale importanza e che sarà di fatto l'apporto che io vorrò dare a questa conferenza è rivalutare la nostra visione del mondo e di noi esseri umani riposizionandoci all'interno del mondo naturale, non come soggetti che si sono separati dall'ambiente, nemmeno come soggetti che appartengono in modo piatto alla natura, ma come soggetti che si sono in un qualche modo distanziati dall'ambiente naturale. Ora rimarcando questo concetto di distanza a mio avviso soprattutto anche a un genere di riflessione umanistica che passa da narrazioni, arte, si possono evidenziare degli aspetti importanti perché se ci siamo distanziati dalla natura ma in un qualche modo non ci siamo mai separati da essa abbiamo per certi versi la possibilità di diventare ancora più umani di quanto non siamo se comprendiamo il nostro posto di essere umani in questo ambiente, cioè un modo di renderci veramente conto di dove siamo, di che relazioni abbiamo con il mondo naturale e dall'altro parte evidenziare anche il grosso rischio di essere disumani se rifiutiamo da un certo punto di vista renderci conto del nostro posto in natura e di esercitare quelle qualità che ci hanno in parte distanziato dalla natura come la razionalità, il giudizio, l'etica e quindi applicare il nostro giudizio morale anche alle nostre relazioni con il mondo naturale.